Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Benvenuti in un nuovo vlog. Allora, siamo andati dalla mia mamma, che è qui, guardatela, come è fresco. Ciao! E siamo andati perché la accompagniamo a fare la spesa, però prima andiamo a fare un salto all'atelier, così mia mamma mi vede con... L'abito da sposa! Finalmente! Ecco sì! Ma pensa, non lo sapevo che era anche vicino a casa mia. Eh, hai visto? Beh, meno male, dai. Ma tu pensi che ti emozionerai quando mi vedrai? Ma non lo so, penso di sì, dai. Anche se diciamo che ormai non sei più una bimba, però vabbè. Ma senti, ma adesso l'abito te lo consegno o devi fare una prova? No, devo fare la solita prova. Ah, ben, ben. Quindi c'è ancora tempo ora che te lo consegnano? Sì, e beh, poco prima del matrimonio, insomma. Tu l'hai già scelto però, sì, eh? Sì, sì, adesso lo vedi. Ecco. E niente, adesso andiamo lì e... è nulla. Magari vi faccio fare una sbirciata, ma non prometto niente, eh. Non lo so, se vi faccio fare una sbirciata. Magari vi... ovviamente il mio vestito non ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere qualche altro abito, però il mio no, adesso è una sorpresa per tutti. Eccoci qua, adesso siamo a Alessia e Lunga. Abbiamo fatto. Allora, adesso siamo a Alessia e Lunga. Come è stato a vedermi col vestito? Oh, bello. Una bella emozione, veramente. Sì, sì. Beh, adesso facciamo la spesa. Così qua. Davide là, nell'angolo. Abbiamo messo in castigo, amore. Ti abbiamo messo in castigo? Sì. Non ha fame? Siamo qua con mia mamma, con la tina e mia bambina. Mammi. Eh, ciao. Ti sta bene sto mangiando, eh? E la sua barbara. Eh. Stiamo mangiando insieme, che... stiamo mangiando le zucchine. Ripiene. E mangiamo un boccone, insieme, poi stiamo un po' insieme. E poi dopo io e Dai dobbiamo andare a fare altre commissioni. Comunque, adesso ve la faccio salutare bene. Lo sai che chiedono sempre di te, dicono che manchi nei vlog, la signora Luciana è così di classe, ci manca? Lo sai che voglio costruire un vlog dove raccontare le storie, eh? Vuoi aprire un vlog? No, aprirlo no. Avrei un vlog dove posso fare questa roba. Ah, vuoi uno spazio dove raccontare le storie? Eh, possiamo farlo. Fateci sapere qua sotto, se vi interessa, una rubrica di mia mamma che racconta storie di che tipo. Storie casi per bambini. Sono per bambini? No. Ah, ok, quanto ce lo sapere. Ok, siamo andati via da poco da mia mamma, adesso dobbiamo andare a fare altre commissioni per la gioia di Davide. Tanto. Sono stanchissimo. Amore. Sì? Li porti dal Primark. Eh? Dai. A quest'ora. E dai, lo fio in grigio, c'è mezza aperto. Vai, amore. Amore, è un sì? Amore. Andiamo da Primark. Scherzetto! È un bello scherzo. Come non è un bello scherzo? Dai, dovresti sentirti... Allora, andiamo veramente preso qui che non è un bello scherzo. No, no, è un bello scherzo. Facciamo quello non è uno scherzo, ci andiamo. È un bellissimo scherzo. È un bellissimo scherzo. Sei al top? No. Allora, lo yeah? Neanche. Allora vuoi dire che vuoi andare da Primark? No, no, sono al top allo yeah. Ti amo. Ragazzi, si è fatta sera. Sono le 7-6 minuti e siamo ancora fuori. Comunque c'è una temperatura che secondo me non è normale affatto. Quanti gradi abbiamo, amore? Non so, però si sta bene. Oggi faceva caldo. Oggi faceva caldo, si sudava. E siamo di stare comunque in primavera. Cioè, guardate qua, sono sbracciata. Questo qui che dite che non prendo le cose, le collaborazioni, non metto mai niente. Ce l'ho su. Questo qua l'ho preso da Dresslily o Rosgal, non mi ricordo. Comunque, Dresslily forse. Comunque, vedete, siamo sempre in giro, visto che siamo sempre in casa. No, stiamo uscendo tantissimo. Non solo per le cose del matrimonio, ma proprio perché abbiamo deciso che vogliamo fare un po' più di... Come si dice, un po' più di vita l'ha aperto? Sì, più resti. C'è sonno, è stanco. Domani c'è il corso prematrimoniale. E... C'è altre commissioni. Anch'io, andiamo tutti insieme, c'è anche la socerina domani. Quindi spero che vi abbia fatto piacere di aver visto mia mamma. Come avete sentito, vuole fare una rubrica dove racconta le storie. Quindi fateci sapere se vi può interessare la mia mamma che racconta le storie, che legge. Poi da una maestra d'asilo, sapete, c'è proprio l'esperienza anche, ecco. E adesso non abbiamo ancora finito, ragazzi, perché non andiamo ancora a casa. Dobbiamo ancora fare altre due commissioncine. E penso che saremo a casa ancora come ieri. Ieri siamo andati a casa che erano praticamente... Tra una cosa e l'altra. Abbiamo finito per le 9. Infatti ve l'ho caricata alle 9, alle 10 video. Sì, perché dopo che abbiamo fatto tutte le cose, il tuo video l'ho caricata alle 9. E il mio l'ho caricata verso le 10 quasi. E... E nulla, ragazzi. Questo è... Sono giorni frenetici, veramente. E... La stancata si fa sentire perché dal mattino fino alla sera, tutto il giorno fuori. Ma poi soprattutto non solo in macchina, ma proprio abbiamo camminato, fatto scale. Insomma, un bel po'. Da... No, non sapevo cosa dire nulla. E... Adesso vi faccio vedere perché sono in un posto, dai cinesi sto andando, perché devo cercare una cosa specifica che mi serve. E... Vi inquadrerò qualcosina e poi vediamo. Qui c'è sempre questo classico albero di luce, ma non è in vendita, è loro, lo mettono quando è il periodo natalista. Molto molto bello, devo dire, guardate. Molto bello, però non è in vendita. Molto molto bello. Molto bello. Molto bello. Molto bello. Grazie a tutti. Eccoci qua raga, dopo tanto tempo a Lidl siamo voluti semplicemente per la friggitrice. E' posta. No, non c'è lì, è dentro. Questo è il prossimo, non so se vediamo, c'è qualcosa di buccioso. No, non c'è lì, è dentro. Esatto, passiamo. Le ciali sono queste. Quando? Hanno cambiato la confezione, hanno fatto di cartone, non più di plastica, sì. E' bella oggi. Vedi, nel caffè dolce gusto, compatibile. Bene ragazzi, io spero che il vlog vi sia piaciuto, io non ce la faccio più, non ce la faccio più. Sono stanchissima. Sono giorni, non sono abituata a stare fuori dalla mattina fino alla sera. Eppure sti giorni stiamo facendo così, stiamo facendo tante cose. Un po' per il matrimonio, un po' per le commissioni, poi vabbè, un po' perché andiamo ad aiutare la mia mamma, un po' così, un po' così, un po' così. Insomma, sti giorni proprio stiamo facendo tardissimo, veramente. Non abbiamo mai fatto così tardi, è proprio, no, 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 no. E niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, ve lo carico adesso, sono le 9.35. Ora è il tempo che finisco di montarlo, ve lo carico subito. Un bacione e spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Coppia, da VediChiolaChannel e al canale ChiaroAlessandroSMR. Noi ci vediamo con un prossimo video, ciao!